Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabry io birillo oggi andiamo a farvi vedere come la taverna dello svapo fa i liquidi vai birillo facci vedere oggi andremo a preparare un liquido della big mom cioccoella che sarebbe la crema di nocciola tipo similare alla nutella allora la scatolina si presenta così al suo interno c'è l'essenza 10 ml di scienza una boccetta per poi andare a drippare e portatela fuori e drippare con dripper o la teca e riempire e abbiamo fatto così l'abbiamo preparato con la base a voglia abbiamo fatto 90 ml a 0 nicotina base a 0 e 10 ml di essenza l'abbiamo messo dentro abbiamo lasciato qualche giorno un pochino a macerare ogni tanto scottendolo e ora andiamo a fare la prova di svapo e assaggiare come è venuto il liquido preparato da me lo metto al suo interno della sua boccetta ora andiamo a sentire il profumo la crema di nocciola buono la profumo mi sembra buono ora lo butto dentro questo ci metto il suo tappino sono le boccite che ci piacciono con la che si apre la sicura si chiude si avvicina molto nocciola si la 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 nocciola però è buono che quanto gli dai questo liquido? io ci do un 7 si un 7 è riuscito bene è riuscito bene te lo puoi fare da solo a casa non è difficile non è difficile da fare perché basta avere una boccia graduata mettere 90 ml di base di base neutra e buttarci dentro la sua essenza lasciare un pochino qualche giorno che va a macerazione che prende bene il sapore scuotere la sera magari ci dai una gittata per bene dopo 3-4 giorni è pronto o dicono sempre di più 7 giorni e per me più rimane lì più prende il sapore basta non passare 5-6 mesi non lo so come potrebbe venire però comunque come liquido ne va a volte da fumare tutto il giorno non smaga perchè non viene troppo forte durante i 10 dalla tavenna non lo so poi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo un canale su instagram e su facebook la taverna dello svapo se ci volete seguire siamo contenti di accogliervi dalla taverna dello svapo è tutto un bacio